Siamo con Giacomo Gambaretti al termine di Feralpi Salò Forlì 5-0, un risultato importante, non era comunque facile anche se era l'ultima in classifica, in questi casi si dice che c'è tutto da perdere e difficilmente poi alla fine si riesce a fare una partita così brillante e voi ce l'avete fatta. Sì, erano importantissimi questi tre punti, la classifica non ci interessava la posizione di Feralpi prima di questa gara perché ogni gara era a sé, eravamo concentrati e determinati a vincere questa partita. Al di là dei cinque gol, merito tutto nostro, nel senso sono stati bravi a chiudere la partita, dopo sì, loro sono restati in dieci, avevamo già finito i cambi, però merito nostro assolutamente. Vittoria che è maturata anche grazie a un tuo gol che ha sbloccato il risultato, tanta soddisfazione immagino. Sì, sì, moltissima soddisfazione, una grande gioia. Primo gol per te con la maglia del Feralpi Salò, speriamo non l'ultimo. Speriamo, speriamo.